Ciao ragazzi, appena finita la finale di Coppa Italia Primavera, Fiorentina 2-Lazio 1. Cioè è rammarico perché alla fine la Lazio non è stata fortunata, per questo ha perso la finale. La Fiorentina si è dimostrata secondo me più squadra, soprattutto la Fiorentina ha sfruttato gli errori perché i due gol della Fiorentina arrivati nel primo tempo, la Fiorentina è andata subito in vantaggio dopo pochi minuti disattenzione di Armini perché la conclusione della Fiorentina prende il palo e Armini anziché andare sul pallone alza il braccio per protestare, non so perché cosa e il centravanti della Fiorentina lo anticipa e segna da un metro e quindi Fiorentina subito in avanti. Fiorentina che continua a spingere e dopo un paio di buone iniziative della Lazio è arrivato il raddoppio sempre del centravanti della Fiorentina, bravo a colpire di testa, un cross dalla sinistra ma la Franco si fa fregare troppo facilmente, Franco arriva in ritardo su questo cross e il centravanti della Fiorentina non può sbagliare. Due errori gravi dei difensori della Lazio che sono costati due gol che poi hanno deciso la finale. Nel secondo tempo la Lazio spinge di più, Drecca è un giocatore molto interessante sulla fascia sinistra si ha spinto bene. La Lazio ha accorciato le distanze però con una punizione di Bertini, ottima punizione. La posizione non era molto vicina, anzi saranno stati 35-40 metri dall'area di rigore, dalla porta. Bellissima punizione sul primo pallone a girare, nulla da fare per il portiere della Fiorentina. La Lazio spinge, preme però tira poco in porta. Raul Moro oggi ha fatto male, è stato poco servito ma anche lui si è mosso molto molto poco e anche Castigliani che a me piace molto ha fatto poco, decisamente di più di Raul Moro, non Castigliani. Però secondo me si è vista l'assenza di un vero centravanti. Giocare con il falso 9 con due seconde punte può creare problemi ma quando la difesa avversaria si chiude serve un centravanti vero e l'assenza si è vista. Infatti nel finale Menichini ha tolto Cish che secondo me era stato il giocatore più forte per mettere Tyler Nimmerman e io l'ho detto più volte, Nimmerman non è da Lazio. Mi dispiace dirlo ma un centravanti che in due anni fa solo due gol e infatti ha avuto sui piedi due volte l'occasione per il pareggio e due volte ha sprecato. La Lazio ha avuto tante occasioni nel finale ma non ha praticamente quasi mai tirato un porta e quindi alla fine la Fiorentina ha vinto con merito anche se ripeto il pareggio sarebbe stato risultato più giusto però nel calcio alla fine chi segna vince e la Lazio ha grande difficoltà a segnare perché manca un centravanti. Secondo me questa squadra non è male ma manca un centravanti che la butti dentro nei momenti difficili. Castelliani e Moro non sono due centravanti, sono due ottimi giocatori, attenzione, ma nel calcio, soprattutto nel livello primavera, la differenza la fa il centravanti. Quello della Fiorentina ha fatto due gol, quello della Lazio se ne ha mangiati due. Eccolo là. Questa è stata la differenza. Ciao, alla prossima.